Oggi scopriremo in 60 secondi le caratteristiche del passeggino Momi Adele. Momi Adele è un passeggino super leggero, pesa infatti solo 7 kg, ma ha una caratteristica fondamentale, cioè la seduta reversibile e girevole, inoltre omologato fino a 22 kg. Maniglione unito foderato in ecopelle con pulsanti per la chiusura, schienale reclinabile in un semplice gesto e capottina ulteriormente stensibile. Seduta girevole in un semplice gesto, ruote anteriori e posteriori ammortizzate realizzate in gomma eva antiforo, chiusura super veloce e semplice, super compatto da chiuso. Scopri di più sul nostro shop online www.casababy.it o scopri il video tutorial completo sul nostro canale YouTube. Grazie.